Consola del Benin a Napoli, una sinergia fra il Benin e questo istituto alberghiere per formare dei ragazzi che poi dovranno interagire all'interno del Benin. Sì, oggi è una giornata molto importante, si firma un protocollo di intesa, appunto come già ha detto lei, tra l'istituto Petrono e il Consola della Rubrica del Benin e un'associazione presiduta dal presidente dottor Giuseppe Paladino. Io credo che questi progetti hanno un valore molto importante perché in un momento così delicato dove si parla appunto di immigrazione, formare questi giovani nel loro paese credo che sia un'arma deterrente per poter, non dico bloccare questo fenomeno che è diventato così grande, ma quantomeno di avere una funzione di riparatoria a tutto il fenomeno che si sta creando. E poi è importante la formazione qua da trasferire poi nel proprio paese? Sicuramente, diciamo, questo progetto viene visto appunto in un ambito di cooperazione internazionale che permetterà appunto a dei giovani beninesi di formarsi qua nell'istituto per poi portare il know-how che loro hanno appreso qua, di portarlo poi nel proprio paese, nel nostro paese, la Repubblica del Benin che noi veramente rappresentiamo a Napoli e con questo sistema chiaramente si danno anche delle opportunità agli stessi giovani. In primis appunto di prepararsi per poi anche loro formare a loro volta altro personale giù nella Repubblica del Benin, ma soprattutto di dare valore e valorizzare a quelle che sono anche le bellezze paesaggistiche, perché il Benin comunque non è soltanto un paese povero ma un paese anche ricco di bellezze naturali e in questi ultimi anni, grazie comunque all'intervento dei governi che si sono succeduti e dell'attuale Presidente anche Sua Eccellenza Tallonno con tutto il membro del governo e anche l'ambasciata a Roma con il nostro ambasciatore, si sta cercando appunto di potenziare il turismo, perché io credo che nel turismo è il terziario insomma è la cosa diciamo, è il futuro insomma per tutti insomma, questo credo che secondo me sono i progetti che veramente bisogna fare, sicuramente aiutare, fare, dire ed è giusto però secondo me la cosa più importante è fermare questo, insomma dare la possibilità a queste persone di formarsi, formandosi chiaramente loro rimarranno nel loro paese, perché io credo che non tutti insomma amano lasciare il proprio paese per arrivare poi diciamo in un'Europa che comunque insomma forse probabilmente non attendeva quello che erano le loro aspettative. A consigliere Mena d'Orsi ma anche Presidente insieme alla sorella di un'associazione di medici MediCelp, continua la collaborazione con il Consolato del Benin, prima scambio di formazione per i medici, adesso per dei ragazzi che impareranno a cucinare. Sì, assolutamente, buongiorno e noi già collaboriamo da tanto sia con il Consolato del Benin con altri consolati, ma in questo caso quindi parliamo del Benin, dove abbiamo noi voluto fortemente insieme al Console Gambardella il protocollo d'intesa stipulato nel 2015, abbiamo fatto venire appunto dei medici e delle altre figure professionali per la formazione, per passage e oggi a distanza ancora di anni sono rientrati ovviamente perché l'obiettivo poi del protocollo d'intesa per cui mi trovo anche qui, sono stata invitata quindi ho incastrato un attimo questo impegno a cui tengo moltissimo anche se non avrei potuto perché 10.000 cose da fare. Protocollo d'intesa che serve per preparare, per formare, per dare una formazione più concreta e quindi personale valido, in questo caso nell'ambito della ristorazione degli alberghi eccetera e che raccolgono le formazioni e le vanno a trasportare laddove sono carenti ovviamente di tutto. Quindi noi facciamo da anni missioni mediche insieme a mia sorella, quindi abbiamo anche degli ospedali, dei dispensari in Africa e in Asia. Grazie a tutti.